Dopo due anni di stop a causa dell'emergenza Covid, lunedì 14 marzo tornerà al Santuario di San Gabriele della Dolorata il tradizionale raduno degli studenti dell'ultimo anno delle superiori, che si ritrovano a 100 giorni dall'esame di Stato per chiedere la protezione del Santo dei Giovani. I frati passionisti di San Gabriele hanno già avviato la macchina organizzativa anche a seguito di diverse richieste arrivate da scuole di tutta la regione. I 100 giorni 2022, dovendo i frati rispettare un limite di capienza di 800 persone all'interno della Chiesa Nuova, ci saranno messe ad ogni ora, alle 8, alle 9, alle 10, alle 11, alle 12, alle 16, alle 17, e al termine di ogni celebrazione i sacerdoti passeranno tra i banchi per la benedizione delle penne, che prima si svolgeva con una grande ammucchiata all'aperto. Salterà invece per il terzo anno consecutivo il raduno degli alpini per commemorare il sacrificio del battaglione L'Aquila in Russia. La cerimonia quest'anno doveva svolgersi in forma solenne, ma il gruppo di alpini di isola che organizza l'evento e il comune hanno deciso prudenzialmente di soprassedere, visto il numero ancora elevato di contagi Covid. L'obiettivo è riproporre il raduno in estate e forse in agosto, ma non sarà facile trovare una data visti i tanti eventi in programma a San Gabriele.